La comunità decide di conferire, di proporre in primis e poi di conferire la cittadinanza onoraria per il grande senso di gratitudine per avere il comando provinciale nel giro di 48 ore individuato i presunti responsabili dell'atto vandalico sul sito Scala dei Turchi. Tutti sappiamo che il sito è bene candidato come da inserire all'UNESCO già dal 2007, è un bene che tutto il mondo conosce e questa notizia, questo grave oltraggio alla Sicilia e ai siciliani onesti ha fatto il giro del mondo. Noi abbiamo avuto chiamate dal New York Times, quotidiani nazionali e internazionali, televisioni, la RAI, trasmissioni televisive hanno parlato della vicenda. Di questa offesa, dicevo, alla cittadinanza onesta, al senso di servizio delle comunità, alla rettitudine, che grazie a un intervento tempestivo e a uno spirito di servizio e di squadra si è acceduto, ecco l'aggressione alla bellezza, ha ceduto il passo alla legalità e al senso di servizio e di rettitudine. Un messaggio importante è quello che ha lanciato oggi la comunità di Real Monte, conferendo all'arma dei carabinieri la cittadinanza onoraria. Noi siamo l'arma della gente e quel giorno, quel maledetto 8 gennaio, abbiamo risposto a quello che è stato un tentativo di omicidio della Scala dei Turchi. La dignità dei siciliani e degli italiani è stata mantenuta integra, perché la risposta di assicurare la giustizia ai malfattori è stata immediata, ma ancora di più la risposta dei ragazzi, dei volontari della più bella gioventù d'Italia, come l'ha definita il nostro procuratore, che in quel giorno scopera, amazzi alla mano, idropulitrici, hanno restituito alla Scala la sua bellezza integrale, quella millenaria, quella che la contraddistingue tutti i giorni e quella che fa sì che questo monumento naturale sia uno dei più belli d'Italia. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento molto importante e ripaga di tanto lavoro svolto in silenzio ogni giorno. In questa circostanza la Scala dei Turchi è stata protagonista di questi eventi, sono stati giorni molto intensi, abbiamo lavorato tantissimo e ricevere oggi la cittadinanza onoraria è un riconoscimento simile, è un motivo di grande onore da parte mia, ma anche da parte dell'Arma dei Carabinieri. Siamo grati a tutta la comunità di Realmonte, dal signor sindaco all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ed è uno sprono a fare sempre meglio e ad impegnarsi quotidianamente sempre di più per tutti. Sono personalmente grato al sindaco, all'amministrazione comunale, a tutta la comunità di Realmonte per questo riconoscimento. Un riconoscimento importante che io ovviamente voglio condividere con tutti i miei collaboratori della stazione Carabinieri di Realmonte. Io comando la stazione, ma quando si interviene in certe situazioni ovviamente interveniamo tutti e lavoriamo tutti. Devo dire che i miei ragazzi non si sono risparmiati per nulla, 48 ore di lavoro continuo, però poi le soddisfazioni arrivano. Il presunto soggetto è stato assicurato alla giustizia e sono contento e voglio condividere questo mio riconoscimento con tutta la stazione. Grazie a tutti!